Buongiorno ragazzi, episodio 137, stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Sono le 9.52, vi ricordo intanto che domani alle ore 10 di mattina su YouTube andrà online, live, un'intervista con un ascoltatore che appunto non conosco, non ho idea di chi sia, cioè ci ho parlato al telefono due minuti giusto per organizzare e domani vedremo cosa riusciremo a dirci. Quindi se volete venire live su YouTube potete fare delle domande, ascoltare eccetera eccetera. Poi comunque l'episodio verrà portato su podcast, quindi potete ascoltarvelo domani pomeriggio credo. Intanto iniziamo sempre parlando del podcast, noto che siamo a 48.850 ascolti finora dall'inizio dei tempi e la cosa un po' mi piace, un po' no, perché sarebbe stato bellissimo superare i 50.000 ascolti entro fine anno. Però chiaramente a meno che non refresci e siamo già cresciuti non credo che la cosa sia fattibile. Però se riuscite fate conoscere questo podcast a più persone possibili, riascoltatevi episodi vecchi così magari facciamo un boom finale e riusciamo ad arrivare a questi 1150 ascolti che ci mancano per superare 450.000 nei prossimi tre giorni, sì dai tre giorni, mercoledì, giovedì e mercoledì, e vediamo che succede, se riusciamo a combinarla come al solito, se riusciamo a far sì che i numeri lavorino per noi o che voi siate così gentili da ascoltare queste mie richieste. A proposito di richieste ragazzi, siccome un altro obiettivo che mi sono dato è di arrivare a dicembre, cioè in tutto dicembre guadagnare almeno un euro al giorno con gli AdSense cioè al momento siamo fermi a, vi do il dato live, fino a ieri era 22 euro e spiccioli, oggi credo sia 22 euro e 11 centesimi, mancano 9 euro, meno di 9 euro sempre in tre giorni, dai quattro considerato anche oggi, quindi se volete a tempo perso ragazzi andate sul blog, vi beccate una pubblicità, meglio se è quella che riguarda prodotti finanziari, la cliccate, andate sul sito della pubblicità, navigate un po' e poi tornate fuori, questo sarebbe veramente top, così domani ci aggiorniamo, vi dico come andate questa richiesta, perché alla fine, beh, oddio, non è che non vi costa niente, vi costa un po' di tempo, però appunto può essere interessante, può stabilire il nuovo record di guadagni mensili, visto che dicembre sta rivelando essere veramente un mese molto 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 interessante. A tal proposito ragazzi, ieri sera, tempo perso, dopo vi racconto cosa ho fatto ieri sera di preciso, perché è veramente interessante, però siccome dopo quella cosa che ho fatto e che vi racconterò a breve, ero veramente deluso e seccato, ho detto vabbè dai, inizio a vedere un po' come sono andati i guadagni di dicembre, perché mi sembrava fosse stato un mese veramente super iper spaccoso, quindi sono andato appunto sulle varie piattaforme dove tengo i conti dei guadagni, quindi sul mio foglio Excel per i dividendi, su Amazon per le affiliazioni, eccetera, eccetera, e ne è emerso che di AdSense appunto finora siamo a 22,11€, poi abbiamo le affiliazioni Amazon che sono a 11,54€, quello veramente tutti 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 in merito vostro, quindi grazie mille ragazzi, e vi ricordo appunto se volete contribuire potete andare su diventeromilione.it slash Amazon, di ebook siamo circa al momento a 10€, la cifra è circa perché appunto c'è il Kindle Unlimited che ti dà i risultati precisi metà del mese successivo, quindi al momento siamo a 6,83€ più circa 4€, quindi siamo a 10€. Dividendi, badabim badaboom ragazzi, i dividendi siamo attualmente a 25€, ehi, ho detto 25? No, 15€ scusate, però mancano i due più importanti, i due che hanno più peso nel mio portafoglio che sono gli ETF Vanguard, S&P 500 e Light Dividend Yield che arriveranno domani, credo, sì il 29, insomma sia il pagamento, quindi mi arriveranno o il 29 o il 30, che spero siano più di 15€, quindi in teoria raddoppio questa cifra, arriviamo a circa 30€, poi domani ve lo dico con precisione, comunque siamo a, diciamo 30€ e stiamo stretti secondo me, abbiamo comunque 22,33, 63 dai 70€ di guadagni nel mese di dicembre 2021, che non è per niente male, quindi ragazzi appunto volevo aggiornarvi su questo, poi andando avanti con, cioè farò ovviamente il resoconto annuale, quest'anno sarà molto più interessante del solito, però lo farò alla prima settimana di gennaio, non riuscirò a pubblicarlo l'uno, quindi sappiate che arriverà, ma per ora volevo aggiornarvi su questi numeri che appunto aumenteranno domani dopo domani, quindi li correggerò man mano che andiamo avanti, però appunto è veramente interessante capire come questi 70€ siano apparsi, in sostanza lavorando poco poco, ma con costanza e niente, e sono arrivati, quindi adesso abbiamo questi 70€ al mese che ovviamente non sono fissi perché gli ha senso, sì e no, perché appunto le visite iniziano a calare pian piano, giustamente non scrivendoci più, le filazioni Amazon hanno fatto un botto incredibile questo dicembre, ma quelle mi danno abbastanza fiducia che possono rimanere stabili, l'ebook, l'obiettivo appunto dopo aver visto quella cifra là di 10 euro toccacchio, veramente questo, cioè non posso assolutamente sottovalutarlo, non che sia nella mia idea sottovalutarlo, però ogni tanto è giusto dargli il peso che merita, quindi l'obiettivo è di scrivere almeno un ebook al mese da gennaio in poi e vedere che succede, i dividendi, vabbè i dividendi parlano da soli perché quelli sono in crescendo sempre di più, purtroppo adesso appunto che abbiamo finito i guadagni delle vendite per quanto riguarda il minimalismo, andranno incalando i miei investimenti finché non avrò altre entrate, ma vabbè ci sta, ci sapeva se avesse avuto soldi infiniti non avrei iniziato questo percorso, quindi questo è quanto ragazzi, non tenendo in considerazione, attenzione, attenzione, il match betting, perché? Perché il match betting l'ho ripreso, vi ho già detto, comunque da una settimana e parlo, perché ho detto che cavolo se sono soldi vado, me riprendo, me di guadagno e vediamo quanto riesco a guadagnare al mese con un po' di costanza, no? Quindi mi sono reiscritto again a NinjaBet, se volete farlo anche voi potete andare su diventerabiliunar.it slash ninjabet e arrivate nella pagina relativa, potete fare la prima prova che è gratuita e guadagnate 9 euro, mi sembra, con quel test senza dover fare nessuna iscrizione, poi se volete appunto c'è la possibilità di registrarvi, ma io lo sto testando, vi dirò che a gennaio ho intenzione di partire dall'uno fino al 31 e fare un test proprio partendo da zero, quindi con un account non mio, quindi dovendo fare tutte le promo di benvenuto eccetera eccetera e vedere quanto riesco a guadagnare, quello sarà veramente interessante come test, ho l'obiettivo proprio di sputtanarmi qualsiasi ora del giorno, appena esce una promo, tac la faccio e vedere quanto si riesce a guadagnare effettivamente perché ho questa curiosità e quando hai una curiosità puoi trovare dati in giro che confermano e smettiscono qualsiasi cosa, quello che puoi fare tu per chiederti le idee davvero è quello di farlo in prima persona, siccome ho la possibilità di farlo, ho le conoscenze, ne ho la voglia, faccio partendo da zero con l'account di mia moglie, a tal proposito ragazzi, se conoscete un conto, una carta di credito ricaricabile, utile per questa cosa qua perché devo farla intestata a mia moglie, io penso di fare N26 perché BuddyBank mi sta sul cazzo visto che non mi ha più, non mi ha mai risposto da un anno che sto aspettando una risposta, ancora non mi ha risposto, penso di fare un N26 ma se avete idee migliori fatemi sapere perché è tutto ben accetto come vostro consiglio e poi ci risentiamo a fine gennaio con le somme tirate e vediamo che si dice, per ora ragazzi a proposito di match betting che non sembra siano soldi di pivotire al cielo perché assolutamente non è così, ieri sera sono scadute due scommesse mie, sono andate come non dovevano andare quindi ha vinto in sostanza il banco e quindi per usare il bonus adesso devo fare ulteriori scommesse, mentre se avevano un esito diverso vincevo prima quindi devo fare meno azioni per ritirare i soldi, i soldi li prendo comunque però devo fare più sbattimento quindi non è che ne sia molto contento ma ho il tempo quindi non c'è nessun problema, però giusto per dirvi che c'è sempre da lavorare per mantenere attivo i costi guadagni del match betting, via generale, magari entro già al 31 punto ad andare in positivo con i guadagni del match betting al netto del costo dell'abbonamento che mi sembra sia 16 euro, 18 euro quindi dai ci tengo ad aggiornarvi, ma adesso ragazzi faccio un segmento per non perdere tutto e poi vi dico cosa ho fatto ieri sera perché ci rideremo sopra. Anzi anzi adesso che ho aperto il gruppo telegram mi è venuto in mente ragazzi che volevo dirvi una cosa prima di partire con il racconto di quello che è successo ieri sera ovvero che stavo cercando dei video riguardo al prezzo del metano perché a quanto pare è aumentato solo dalla mia zona e in tutto il resto d'Italia i prezzi sono rimasti come un mese fa quindi volevo capire il perché, sono andato a cercare un po' e a un certo punto mi è apparso un video di youtube che ho linkato anche appunto sul gruppo telegram dove c'era un tipo, mani davanti alla faccia, stupito eccetera, il titolo è che conviene ancora scegliere il metano e l'immagine di sfondo, vaffanculo, è una foto che ho fatto io, che ho postato io sul mio articolo di diventerò milionario, quindi appena l'ho vista mi è subito scattata la scintilla, che cazzo questo qua mi ha rubato la foto, vaffanculo adesso gli scrivo subito, aha bella la foto, aha bravo, aha ma almeno metti le referenze classiche cose stupide e inutili che si fanno quando qualcuno ti ruba qualcosa, per realtà ho riflettuto su due cose, uno non ha nessun senso entrare in questo tipo di guerra o almeno non in maniera polemica, interessante sarebbe stato di guarda visto che ho usato la mia foto sono contento, ci sia piaciuto, magari se riesci buttami un link, un referral, un link che mi riporta al mio articolo così magari faccio un po' di traffico e magari io linko il tuo video eccetera eccetera così cresciamo assieme, oppure il numero due è non fare un cazzo perché alla fine io ho il blog attivo da 4 anni ragazzi e ho rubato immagini a destra manca veramente, in realtà ultimamente no perché uso Canva, perché appunto sto iniziando a temere un po' il fatto di, ma a parte che cercare le immagini diventa sempre un po' più difficile perché proprio quelle che vuoi tu quando inizi ad avere un blog un po' più frequentato, le vuoi proprio esattamente come le vuoi tu e trovarle è difficile almeno di non pagarle, quindi adesso le faccio con Canva e prima però rubavo a destra manca quindi non è che posso andare in giro ad additare le persone come ladri o come malfattori o malintenzionati perché hanno preso un'immagine mia mentre io appunto rubo a destra manca senza nessun ritegno da 4 anni a questa parte quindi un consiglio che vi do ragazzi se dovesse succedere anche a voi questo o qualsiasi altra cosa sappiate che a meno che voi non abbiate la coscienza più pulita del culo di un bambino ma non so non credo oppure se avete tempo da perdere anche perché quello aiuta e fate a meno di farvi la lotta anzi dite vabbè che figata mi hanno citato hanno preso trovato le mie immagini che l'articolo è interessante e avanti così perché perdere tempo per queste cose da bambini dell'asilo non aiuta nessuno comunque questo è solo per condividere quello che che ho riflettuto ieri sera che volevo appunto volevo ci tenevo a dirvi ma adesso ragazzi finalmente andiamo a a parlare di quello che è successo ieri sera perché perché giacomo come vi racconta da tempo da tempo no da una settimana ha iniziato a giocare a the five kingdoms e non sapeva se comprarsi un eroe che costa però sui 400 euro quindi rifletti pensa indaga studia capisci se effettivamente sarà il futuro poi su youtube trovi tutto il contrario di tutto quindi non si sa però 400 euro sono tanti e bo 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 bla 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 alla fine per iniziare siccome la moneta di harmony è l'uan ho venduto i miei 450 euro di ethereum su crypto.com e li ho trasformati in usdt e da usdt li ho messi in one e da one li sono mandati su metamask per averli la pronti che non si sa mai comunque one è una moneta che che potrebbe prendere valore quindi già tenerli là non è male come idea però cosa cosa ho fatto poi sono andato là un po sulla taverna dove si compran gli eroi ci ho pensato un po al fine tornò dai andiamo a cercare un'alternativa a the five kingdoms cioè il the five kingdoms di tre mesi fa cioè una cosa che sta per nascere adesso e che se ci metto questi 20 50 100 euro riesco ad ottenere risultati incredibili sono andato a studiare eccetera eccetera ne è emerso un gioco che si chiama enders gate che fatalità ieri sera faceva una pre sale di alcuni nft suoi che si chiamano eros che sono delle carte da gioco in sostanza e in anteprima quindi ne fanno un rilascio di mille ieri sera alle ore 9 iniziamo rilascio di mille stasera rilascio di mille domani sera chiaramente ieri sera il prezzo era 350 dollari stasera 450 domani 550 detto boh faccio una live così parliamo un po vediamo se riesco ad acquistare in pre sale questo eros e capiamo un po cosa cosa consta cosa non consta dove dove viene visualizzato questo questa carta questa nft e capiamo un po è partito il video insomma ore 9 parte il video mi aspettavo di spendere circa 1300 1400 one che è la conversione era circa quella per arrivare a 350 dollari parte bim boom 5800 one che sono quattro volte tanto quello che mi aspettavo di spendere quindi non so perché non capisco perché intanto da mille iniziavano a calare come numero quindi la live è andata un po scemando non capivo il motivo alla fine l'ho interrotta e non l'ho neanche pubblicata perché appunto è risultata abbastanza inutile deludente appunto per questo che riserva stata una serata un po un po così però dopo sono tornato su sul sito visto che il prezzo era sceso a effettivamente a 1270 quindi la corrispondente di 350 dollari alla fine ho capito che i primi tot erano dei dracul non erano degli eros che costavano cinque volte tanto si vede che erano molto più rari e di conseguenza costavano appunto così tanto di più e allora sono tornato sul sito non sapevo cosa fare perché effettivamente avevo questo questa possibilità di comprare questo tasto buy avevo i soldi e alla fine comunque non ho fatto un cazzo ragazzi e ne sono contento perché attualmente da mille sono ancora ne mancano ancora 274 quindi sono passate più di 12 ore 13 ore e ce ne sono ancora un quarto in vendita quindi dai vuol dire che effettivamente non c'era questa forma non c'era questa attesa e il fatto che io non sia entrato mi fa piacere perché una volta di più ancora sono mi piaccio sul fatto che non spendo soldi così come se fosse acqua che scorre tra le dita no inizio a veramente a valutare le cose a valutare il valore che ha che al denaro perché appunto non guadagnandolo più in maniera così così facile diciamo tramite stipendio o quantomeno così scontata inizio appunto da di un valore che merita ecco il giusto valore quindi adesso questi 1700 one vediamo cosa farne e nulla volevo appunto raccontarvi questa cosa qua perché si dice sempre che le pre sale sono andate esaurite in due minuti è il gioco del futuro eccetera eccetera però questa è la prima che alla quale assisto effettivamente non c'è stata questa attesa questa hype questa vendita velocissima quindi giusto per dire che appunto c'è un c'è il mondo reale c'è il mondo che ti vendono su internet sui media quindi da fare attenzione soprattutto se si tratta di cifre così importanti come 350 dollari per un nft che per carità potrà crescere di valore o potrà anche non farlo quindi facciamo attenzione riflettiamoci dire compro un nft così tanto per è un po' è un po' una cagata poi ovviamente come vi ho detto ieri che ho comprato il mio primo nft su tezos è quello è già diverso perché appunto ho ricevuto uno spunto un suggerimento e l'acquisto già attualmente è in positivo perché ho comprato a 5 mi ha aggiornato ieri la mia la mia talpa che si vendeva sui 7 quindi ringrazio il signor talpa che non so se vuole il mio insider che non so se vuole essere pubblico o no in caso mi scriva e niente quindi riflettete 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 ragazzi perché appunto 450 dollari sono 350 dollari sono tanti e non lo so neanche se abbia senso investirli tutti a botta qua oppure investirli che ne so magari 20 dollari da una parte 20 dall'altra 50 da una parte su progetti che di speculazione totale perché questo ero tale è speculazione quindi magari cercare di speculare ancora un po' di più e avere dei guadagni ulteriori ma diversificare un po' tra varie speculazioni quindi questo è un po' il mio consiglio del giorno ragazzi adesso vado a sistemare le questioni sul match betting quindi vado a fare le scommesse che mi servono per arrivare ad avere il bonus arrivare ad avere il guadagno che mi spetta e io vi saluto vi rimando a domani ore 10 intervista live su youtube con il signor c e niente dai nulla da aggiungere se volete andate a fare un paio di click sul blog non fate click compulsivi però ne basta uno perché sennò poi google si insospettisce mi azzara mi azzare click quindi uno buttato là fatto bene e basta se no solito fare acquisti su amazon su diventerò milionario.it slash amazon su diventerò milionario.it slash amazon music oppure i classici link referral che trovate in descrizione ragazzi sono Giacomo diventerò milionario in 6 anni a domani ciao ciao